Oggi, il giorno 10 giugno 2019, dicono che arrivano forte temporale, apro la finestra e vedo una nuova luce di onestà in me, veramente, pensandoci in questi anni come mi sono portato in basso a guardare, a vivere per un certo breve periodo al paese di Capodiponte, Cemmo. Ho girato tutti i paesi della Lombardia, i più piccoli della Lombardia e ho dedotto che Cemmo e Capodiponte sono i paesi più brutti della Lombardia e lì abita, abita tuttora mio ex amico, posso dire anche il nome, ma non lo dico per rispetto, lui si ritiene valido a vivere in quel paese di Capodiponte e avere una casa, non è una casa di riposo, un'accoglienza per anziani a Boario e si ritiene così ricco, importante di abitare lì. Io ho girato Varenna ieri, è il luogo più bello, è uno dei dieci borghi più belli d'Italia e penso di non ritornare più a Capodiponte, Boario, la Val Camonica con quei Camoni, gente assurda, peggio della Val Brembana. Io ammiro in me stesso la volontà di ritornare ancora di nuovamente al Lago di Como, come oggi pomeriggio ritorno a Varenna, Bellagio, l'epittone della bellezza del Lago di Como, come pure altri luoghi del Lago Maggiore sono stupendi, veramente meravigliosi, porta a Valtravaglia di fronte a Cannero, paesi di lusso veramente eccezionali. Adesso capisco il perché a Capodiponte regalano le case, non lavorano i breakfast, la gente capisce la diversità. Eppure un mio amico si sente importante, ha una lode, si sente ricco, si sente chissà che cosa ad abitare a Capodiponte che non sa neanche parlare l'italiano. Io vivo, io vivo e non omiglio nessuno e non dirò mai nome, ma l'importante è sentirsi eroi, sentirsi dire quando non lo si è, Aldo.